Il mondo scoprirai, molte cose imparerai, Blippi! Ehi! Sono io, Blippi! Stavo solo ballando! Oh! Ma fa molto caldo fuori! Vorrei poter fare una pausa! Beh, non c'è tempo per le pause quando stai ballando! Oh! Lo vedete? Wow! È un carretto dei ghiaccioli e io adoro i ghiaccioli! Penso che dovremmo prenderci un bel ghiacciolo! Andiamo! Ehi! Ciao, Blippi! Molto piacere! Come ti chiami? Io sono Giulia! Ti andrebbe il ghiacciolo artigianale? Ma certo! Io adoro i ghiaccioli! Che gusti hai? Questo è cha-cha-cha! Mango, ananas e semi di chia! Uh! Sembra invitante! Mango, ananas e semi di chia! Mmm! Ma è proprio buono! Sono felice che ti piaccia! Vuoi vedere come si prepara? Certo! Sarà divertente! Andiamo! Grande, andiamo! Benvenuto nella mia cucina! Wow! Guardate questo posto! Fortissimo! Grazie! Ora, per prima cosa, devi prepararti! Guardate! Questo è un grembiule! Mettiamolo! Wow! Ok, cosa abbiamo qui? Qui abbiamo tutti gli ingredienti che usiamo per fare i ghiaccioli! Uh! Sembra che ci sia tanta frutta e verdura! Sì, esatto! In effetti usiamo molti cibi funzionali per i nostri ghiaccioli! Puoi vedere cavolo, avocado e spinaci e semi di chia! Questo cos'è? Questo è un cocco! Wow! Forte! Un cocco! Buono! Beh, che gusto prepariamo? Penso che prepareremo un braccio di ferro! Braccio di ferro? Yeah! D'accordo! Indovina perché si chiama così? Uh! Non lo so! Perché? Usiamo gli spinaci! Ok! Prendi gli spinaci! Ne stavo già preparando un po' prima, quindi potremmo aggiungerli! Ok! Quindi abbiamo degli spinaci! E cos'hai tu? Fragole! Fragole! E poi useremo dei datteri! Uh! Datteri! Bene! Andiamo lì dietro! Oh! Ok! Avevo già iniziato a preparare questo gusto prima! Oh! Guardate! Eh sì! Sembra invitante! Cominciamo! Aggiungili! Ok! Ciao ciao, spinaci! E qui ci sono fragole! Uh! E datteri! Miam! Ora, quello che è diverso dalla tua cucina è che qui abbiamo delle macchine molto grandi! Davvero? Che emozione! Wow! Guardate qui! È proprio enorme! Che cosa fa questo? Questo è un frullatore a immersione! Wow! Lo devi infilare dentro e poi premere il bottone! Wow! 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 Ecco fatto! Quindi questo frulla tutto in un liquido? Esatto! Fa proprio questo! Wow! Sembra gustoso! E adesso cosa facciamo? Ora lo verseremo nelle stampi! Ok! Ci servirà la mia brocca! Wow! Quindi in pratica sono tre ingredienti frullati insieme per creare un liquido gustoso! Quello che dobbiamo fare ora è versarlo! Oh! Dobbiamo farlo entrare nei fori! Agitandolo! Esatto! Posso? Esatto! Ok! Qui ce n'è ancora! Wow! Sono rimasti dentro dei pezzi grandi! Va bene! Ce n'è ancora! Ok! E non ci resta altro da fare che togliamo questi pezzi e mettere dentro i bastoncini! Uh! I bastoncini dei ghiaccioli! Ne avete mai mangiato uno tenendolo con un pezzetto di legno? Esatto! È quello che abbiamo appena infilato! Sono davvero comodi! Ok! E adesso li mettiamo nella nostra speciale macchina per ghiaccioli! Wow! Che cosa fa questa macchina? Li rende super freddi! Congela i ghiaccioli in... 18 minuti! Wow! Sono proprio emozionato! Mi piacciono tantissimo i ghiaccioli! Ehi! Guardate! Adesso li metto dentro! Wow! È davvero così freddo lì dentro! Sì! È fatto con un liquido speciale che congela i ghiaccioli! Wow! Capito! Non posso dirti i miei segreti! Ah! Magari dopo! Adesso che si fa? Beh! Di solito... Mentre aspetto che i ghiaccioli si congelino... Vado a ballare! Ok! Andiamo! Wow! Significa che sono pronti? Esatto! Wow! Bene! Scoccioliamo il liquido rifrigerante! Si asciugano! Va bene! Adesso prendo questo straccio così non mi scivolano! Torniamo di là ballando! Sì! Li mettiamo in questo liquido! Ok! A cosa serve? In un certo senso li ammorbidisce così vengono fuori! Uno è caduto! Ecco fatto! Wow! Questi sembrano gustosi! Che emozione! Fai pure! Prendine uno! Ok! Che ne dite di questo? Wow! Gnam! È buonissimo! Gnam! Ma adesso devo tornare di là e vendere altri ghiaccioli! Ok! Puoi badare alla cucina? Prova a inventare un gusto! Inventare un gusto? Sembra divertente! A dopo, Blippi! Grazie per la visita! Figurati! Avete sentito? Voi ed io inventeremo il nostro gusto Blippi! Facciamolo! Capito cosa faremo adesso? Stiamo per preparare il nostro gusto personale! Non vedo l'ora! Bene! Con cosa possiamo lavorare? Ok! Sapete che frutto è questo, vero? Esatto! Questa è una mela! Ok! Sembra che ci sia dell'uva! Gnam! Uh! Cosa sono questi? Guardateli! Già! Questi sono limoni! I limoni sono di colore giallo! Wow! E poi abbiamo del verde qui! Wow! Spinaci! Wow! Wow! Ciao! Sembrano capelli! Uh! Questo è cavolo! Il cavolo è davvero buono! Uh! E non ama i contenitori! Uh! Che buffo! Ok! Mettiamo a posto questi! Così possiamo continuare a vedere che tipi di frutta e verdura abbiamo! Come questo! Oh! Questo è pesante! Uh! Uh! Ah! Yeah! Questa è un'anguria! Le angurie sono proprio grandi! E gustose! Sapete di che colore è l'interno dell'anguria? Esatto! Rosso! E l'esterno è verde! Ok! Ancora altri due! Banane! E... Ananas! Ananas! Gnam! Ok! Dunque! Vedete che qui abbiamo questo grande secchio! Ci servirà per metterci dentro tutti i nostri ingredienti! Avevo dimenticato le fragole! Cominciamo con queste! Andiamo! Woohoo! Haha! Ok! Ora il cavolo! Woohoo! Haha! Mettiamone un po' qui dentro! Woohoo! 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 Stiamo andando bene! Oh! Mele! Ok! Possiamo mettere una mela intera qui dentro! Ma penso che sia meglio tagliarla a fette! Avete mai mangiato una fetta di mela? È buonissima! Ok! Ecco il nostro tagliamele rosso! Lo mettiamo qui al centro così e poi schiacciamo! Wow! Guardate! È fortissimo! Ha tagliato la mela e ora la togliamo da qui e la mettiamo tutta nel grande secchio! Wow! Ma togliamo il torsolo! Togliamo il torsolo che è il centro! Non lo usiamo perché è tutto pieno di semi! E parlando di semi, anche le angurie hanno i semi! Ok! Apriamo l'anguria! Wow! Starò molto attento ad usare il coltello perché sono un adulto! Ok! Cominciamo! La taglio a metà in questo modo! La giriamo! Wow! Guardate qui! Sembra gustosa! I nostri ghiaccioli saranno buonissimi! Ok! Ho un'idea! Arriva! Ok! Abbiamo una banana! La sbucciamo! Ecco fatto! Ciao ciao banana! Woohoo! Mettiamo anche un'altra banana! Gnam! Ecco che arriva! Gnam! Guardate! A me sembra già super buono così! E voi che ne dite? Wow! E ricordate? Abbiamo imparato che frutto è questo! Bravi! Il cocco! Bene! Questi sono un po' difficili da aprire ma... Ne vale la pena! Dunque prendiamo l'apricocco! Wow! Ce l'abbiamo fatta! Guardate! Wow! Wow! Guardate quanto liquido! Fa venire voglia di berlo tutto! Ok! Lo metteremo nel secchio per... I ghiaccioli! Wow! Ah! Gnam! Ok! Usiamo questo attrezzo particolare e prendiamo un po' di polpa di cocco! Già! In questo modo! Uh! Buono! Ci siamo quasi! Bene! Perfetto! Mettiamo anche questo dentro! Gnam! Perfetto! Uh! Qui ci sono gli spinaci! Wow! E poi abbiamo un po' di uva! Metteremo uno... Due... Tre... Quattro... Cinque... Sei... Sette... Otto... Nove... Dieci... Undici acini! Bene! E vi ricordate di questi? Li abbiamo usati prima! Questi sono datteri! Andiamo! Wow! Oh! Oh! Ok! Non dobbiamo dimenticarci dei limoni! Abbiamo così tanti tipi di frutta e verdura qui! Lo tagliamo! Wow! Ok! Prendiamo questi... E li spremiamo! Oh! Ah! Avete mai assaggiato un limone prima? Ok! Assaggiamolo! Wow! Wow! È aspro! Ok! Puliamoci le mani! E ultimo, ma non meno importante, abbiamo un ananas! Tagliamo l'ananas in questo modo! Vedete la parte gialla? Sembra invitante! Adesso prendiamo questo attrezzo per ananas, lo mettiamo sopra e poi gli diamo una bella girata! Wow! Guardate qui! E poi lo tiriamo fuori! Wow! Guardate! Ora lo estraiamo! In questo modo! E questo aggiungerà un po' di sapore dolce ai nostri... gustosi! ghiaccioli! Bene! Direi che è abbastanza! Adesso... Oh! È pesante! Torniamo di là! Ricordate qual è il prossimo passaggio? Esatto! Giulia ci ha insegnato che il secchio va... Oh! Messo qui! Prendiamo il grande frullatore... Wow! E frulliamo! Si parte! Wow! Bene! Ora è tutto mescolato! Aspettate un momento! Ci serve un attrezzo magico! Questa è una frusta gigante! Wow! Guardate! Bene! Sto prendendo colore! Ok! Mettiamo via la frusta e poi mettiamo il secchio qui e prendiamo la brocca! Vi ricordate prima? La usiamo per travasare! Oh! Che emozione! Lo versiamo qui dentro! Ne prendiamo un altro po'! Ok! Andiamo! Ok! Wow! Bene! Penso che sia abbastanza! Diamogli una gitata! Ok! Sì! Saranno buonissimi! Poi prendiamo questi bastoncini! Wow! Ce ne sono davvero moltissimi! Li mettiamo qui! Oh! Perfetto! Ok! Ora dobbiamo portarlo alla stazione di raffreddamento! Ci siamo! Lo infiliamo qui! Wow! Fatto! Bene! Adesso vi ricordate che cos'è successo poco fa? Ci vorrà un po' di tempo! Quindi, mentre aspettiamo, balleremo! Ho! È un campanello? Oh! Sembra di sì! I ghiaccioli saranno pronti! Andiamo a vedere! Uh-huh! Bene! Oh! Che emozione! Ok! Ok! Adesso dobbiamo asciugare! Sono curiosa di vedere gli ingredienti! Uh-huh! Li vedrai! Wow! Ecco che si staccano! Wow! Ma guardate! Wow! I miei due colori preferiti! Già! Guardate! Blu e arancione! Li assaggiamo? Sì! Ti piacciono? Sono deliziosi, Blippi! Sai una cosa? Dovresti venderli là fuori! Mmh! Fantastico! Beh, andiamo a cercare di vendere qualche ghiacciolo! Ghiaccioli! Ghiaccioli! Chi vuole un ghiacciolo? Mi piacciono i ghiaccioli! È stato proprio divertente imparare a fare i ghiaccioli insieme a voi da Mom & Pop Shop a Costa Mesa, California! Beh, la puntata finisce qui! Ma se volete vederne altre, tutto quello che dovete fare è cercare il mio nome! Vi va di fare lo spelling con me? Pronti? B-L-I-P-P-I Blippi! Ben fatto! Ciao! A presto! B-L-I-P-I Seguimi e vedrai Ti divertirai